Hello bad guys! In questo video farò un'introduzione al formato 2011 conosciuto come Tour Tengu Plant in maniera molto simile a quello inerente al formato Edison che, se non avete visto, vi consiglierei di darci uno sguardo se amanti dei retroformat. Il video sarà diviso per sezioni in modo da lasciarvi libero accesso al punto desiderato. Detto questo, mettetevi comodi e buona visione. Il formato Tour Tengu Plant è un altro dei retroformat più popolari e famosi della storia di Yu-Gi-Oh! collocato fra il periodo di settembre 2011 e novembre 2011, nello specifico prima del rilascio di Photon Shockwave, quindi non inclusa o, in altri termini, prima che arrivasse il Rescue Rabbit e di conseguenza il Dino Rabbit. Come per il formato Edison, anche il formato 2011 fa riferimento a degli eventi, nello specifico l'YCS di Toronto svolto il 18 e il 19 settembre 2011 e l'YCS Columbus svolto nel mese successivo, nello specifico il 22 e il 23 ottobre dello stesso anno, entrambi vinti dal Tour Tengu Plant di Billy Brake, da cui il formato prende appunto il nome. Il motivo per cui vi nomino entrambi gli eventi è perché presentano delle differenze sulle quali sono nati alcune discussioni e alcune diatribe. Infatti la differenza tra i due campionati è che dopo l'evento di Toronto è stato rilasciato allo Structure Deck Mondo Oscuro, assieme alla Legendary Collection 2 dove la carta più nota del set era l'Elementary Hero Great Tornado, da qui il quesito principale. Ma quindi si può giocare Dark World? Al YCS Dortmund, dove è avvenuto il primo side event dedicato al formato Tour Tengu Plant, hanno stabilito che la carta full accessibile è quella di Toronto, il che vuol dire che no, basandosi sul side event ufficiale di Mamma Konami non è possibile utilizzare Dark World. Tuttavia, a mio parere, a maggior ragione se avete una community o un gruppo ben solido in fumetteria o semplicemente siete un gruppo di amici che gioca nel garage come i buon vecchi tempi insegnano, penso che la decisione spetti a voi, o quantomeno concordatevi valutandone i pro e i contro, o semplicemente per gusti perché, apro una piccola parentesi, Yu-Gi-Oh! è un gioco e quindi lo scopo in ogni duello è certamente cercare di vincere, per carità, ma divertirsi alla priorità. Quindi in poche parole, mettetevi d'accordo, parlatene con il negozio che frequentate ovviamente, se ne avete uno, e fate quello che ritenete più opportuno. Un'altra controversia è dovuta a Gullies the Star Beast, dato che in Europa è arrivato solo post-Legendary Collection. Tuttavia, se quanto dichiarato da Konami, e nello specifico a Dortmund, la carta sembrerebbe essere permessa, quindi considerata nella card pool. La cosa interessante del formato d'Urtenguplant è che coincide con il periodo di chiusura dei singoli dell'era 5Ds e l'introduzione di un nuovo tipo di mostri, ossia gli Exceed. Velocemente. Per i giocatori che magari hanno giocato fino al formato Edison, gli Exceed sono una nuova tipologia di mostro che compone l'extra deck e sono caratterizzati dal colore nero sulla carta. Inoltre, il loro livello è definito Rango, o più comunemente in inglese Rank, e per evocarli dovrete sovrapporre i materiali indicati dalla carta. In questo caso, come mostrato dalla carta, i materiali indicati sono due mostri di livello 3. Riguardo questo, dato che la guida torna al mondo sotterraneo e potete immaginare vada a sfruttare bene questo comparto, vorrei farvi presente che Sangan, se staccato per effetto o semplicemente dovesse finire al cimitero dopo che l'exceed è stato distrutto e o rimosso, non attiva il suo effetto, dato che, spiegandola in maniera molto superficiale, è come se non andasse dal terreno al cimitero, mentre per esempio un Deadly Lion attiverebbe il suo effetto. I due punti di forza del formato d'Urtenkuplant sono assolutamente l'accessibilità, ma in maniera ancora più predominante, la varietà. Dal punto di vista dell'accessibilità, fortunatamente le carte utilizzate all'interno del formato sono state ristampate in tutti i colori in rarità per la maggior parte e, se siete giocatori di Edison e state cercando un tipo di esperienza simile ma al contempo diversa, il mio consiglio è appunto di dare un'occhiata a questo formato e dargli una possibilità. Infatti un'altra caratteristica del formato 2011 che potrebbe interessarvi è che gran parte dei mazzi del 2010 sono ancora giocabili e ricevono supporti non indifferenti che certamente rendono il gioco più veloce sotto certi aspetti. Basti pensare al reclutatore dei custodi di tombe, anima nera per quanto riguarda il mazzo X-Saber o le nuove fusioni Hero. Il formato Edison ovviamente è super accessibile e continua ad esserlo, ma vista la popolarità che sta avendo ha causato un lieve aumento dei prezzi di alcune carte, in particolare di quelle non ancora ristampate. Il formato Tour Tenguplant invece al momento non è ancora così popolare quindi, qualora foste effettivamente interessati, vi suggerirei di acquistare le carte desiderate visto che i prezzi probabilmente andranno ad alzarsi nel tempo. Con questo non sto dicendo che il formato E o sarà super costoso, anzi, rimane sempre molto molto accessibile. Il mio è semplicemente un invito a procurarsi almeno le carte che magari hanno ottenuto meno ristampe e a quelli che preferiscono le carte un po' più rarizzate, che sia per collezione o semplicemente vi piace avere il mazzo Foil. A tal proposito, se siete in procinto di fare acquisti, vi consiglierei di guardare la descrizione di questo video e nello specifico il link inerente a CardTrader, in maniera tale da poter guadagnare 2€ gratuitamente sul vostro account e quindi risparmiare qualcosina. Inoltre, caso che non sappiate cosa sia appunto il CardTrader, potrete vedere una guida completa presente qui sul mio canale e vedere come funziona il servizio. Come al solito, per essere sicuri riguardo le cosiddette carte legali, vi lascio in descrizione i link relativi alla abandoned list, ai ruling e all'errata, ossia quelle carte revisionate negli anni che hanno cambiato effetto come potete appunto vedere dalla grafica. Le tre regole principali che dovrete tenere in mente sono le stesse del formato Edison, ossia chi inizia per primo per scherzare la sesta carta, ci può essere soltanto una magia terreno in campo, quindi attivandone un'altra, quella precedentemente piazzata sul terreno sarà mandata al cimitero, e ultima, ma probabilmente più impattante secondo me, la regola inerente alla priorità. Per le carte utilizzabili vi consiglio di dare uno sguardo alla Format Library, che, oltre al formato in questione, contiene anche informazioni e pull inerente ad altri formati, qualora foste appunto interessate ad altri tipi di esperienze da non fraintendere. Come per ogni retroformat, purtroppo al momento per poter giocare online dovete far riferimento all'ormai ben conosciuto Dwelling Book o, per alcuni veterani e boomer del gioco come me, ex Dwelling Network, tramite il formato Unlimited Unrated. Componete quindi il vostro mazzo su Deconstructor e poi cercate l'avversario o state una partita specificando il formato utilizzato. Il formato è molto schillato, bilanciato e ricco di varie interazioni in termini di gameplay, visti i continui botte risposta. E a proposito di questo possiamo dire che in un certo senso il formato Turtencuplant introduce il concetto di handchap generiche, come appunto Attract Vailer e Max C. Parte come i Monarchi quindi restano ugualmente molto forti all'interno del formato, ma non inarrestabili grazie appunto a Vailer che, a mio parere, riesce ad equilibrare il gioco dando più spazio anche al reparto Chaos. Per quanto riguarda Max C, invece, i giocatori del formato standard potrebbero torcere il naso al solo nominarlo, ma ogni cosa va contestualizzata. Nel 2011 il gioco infatti non era veloce quanto il formato attuale, quindi la carta era assolutamente forte e questo non lo nega nessuno, ma a mio parere bilanciava l'esperienza complessiva del gioco. Ovviamente esistono molti altri extender generici come il mostro esuscitato, due richiamo del posseduto, diventano giocabili 3 tifoni, 3 stregoni del caos, ma il più famoso di questi è il nostro amico BLS. Al contempo ci sono anche extender che potrei definire di archetipo, come il reparto TG, che aiutano a velocizzare i mazzi e a renderli più flessibili. Un'altra carta molto forte è la Pot of Duality, la POD, che aiuta tutti quei mazzi control a essere molto più stabili ed evitare quindi il concetto anche di brick hand, letteralmente mano-battone o alcuni la chiamano mano gialla, visto che appunto non hai modo di poter fare nulla. Vista la forza della POD, quindi, una delle migliori evocazioni e dei migliori mostri all'interno del formato diventa quindi il Thunder King Ryo, che, per quanto forte in Edison, secondo me qui ha un impatto notevolmente maggiore dato che i mazzi sono pieni di sercini e possiamo definirli come bisognosi di risorse. Per quanto riguarda invece i Xeed, i primi rilasciati non sono così broken. Certo, un Levier è una carta molto forte, ma nulla dicessivamente rotto, quindi ricapitolando vi farò una lista delle carte più generiche del formato che vi consiglierei di leggere ed imparare se siete appunto neofiti del formato. Quindi per cominciare abbiamo la guidatura ovviamente dal mondo sotterraneo, Sanghan, il Tengu, il Sorsho che ora è a 3 e il DLS, Ryo, il Effect Veil, Maxi, Liddy Crow, Dragodia e, vabbè, li metterò qui, Gorz per continuare l'entrap, Kaius che resta ovviamente una delle vocazioni per il tributo sempre più forti del gioco, Cyber Drago, sempre forte anche di Side, ma anche di Main vista la presenza di mazzi macchina come il Karakuri, e poi il Glow Up, il bel bulbo luminoso e la spora che arricchiscono appunto il comparto pianta. Per l'espello abbiamo invece la Tempesta Potente per l'appunto, Tifone che ora va a 3, il Dark Hall che diventa il nuovo Card Breaker del formato, Book of Moon, ora limitato, la Pod che vi accenavo prima che è fortissimo, un Storyboard, la Lancia Proibita, Mind e Enemy Controller, dato che con gli Xe, diciamo, essendo facilmente calabili, diventa molto importante rubare anche le risorse all'avversario, questo è molto versatile, ha maggior ragione, e la Pod of Avaris ha anche essa limitata. Infine, le trappole molto simili ad Edison, tranne però appunto il Solent Warning, che diventa un must praticamente in quasi tutte le liste che utilizzano trappole, vabbè il Giudizio Solenne, la Dust Shot, Torrenziale, Mirror Force, la Prigione Dimensionale, Bottom e Strap Hole, la Starlight Road che potreste vedere molto meno rispetto all'Edison dato che il Black Wing qui è un pochettino nerfato, Call of the Haunted, e infine Royal Decree che io ho reputo una carta sempre forte da considerare dato che ora ha 3. Per più rappresentativo del formato, è molto versabile, sta praticamente in ogni lista sincro, è fortissimo, a dir poco, e fortunatamente abbiamo carte come Effect Vealer o Solent Burn in grado di, diciamo, fermarlo. Poi vabbè, abbiamo lo Stardust, il Librarian, Catastor, Archer Senale, Black Cross Dragon, Rionach, Forza Fighter, lo Scrap Dragon che è una New Entry di livello 8 molto molto forte, che è facile da, diciamo, calare. Poi l'Orient Dragon e tenete presente che il Guardiano Goyo è bannato in questo formato. Il Chimeratech che parla un po' da solo, visto la presenza di Mostri di Macchina, a proposito di Mostri di Macchina e Karakuri, quindi Mostri di tipo terra, abbiamo il Barkion e la Beast che vengono sfruttati appunto dal Karakuri, ma anche da mazzi come il Six Samurai. E infine per gli Exid abbiamo il Levier, il numero 17, il Drago Leviatano, il Roach, il cosiddetto Roach, numero 39. Mi nomino anche il Gakigaki, visto che, o Gakigaki, non so quale sia la pronuncia, penso Gakigaki, visto che è permapresente in ogni mazzo Agent. E poi ci sono i due custodi dell'Armageddon della Genesi che vengono giocati bene o male in Dark World, quindi diciamo sono un po' opzionali, visto il video per come lo strutturate, appunto livello 5 vengono sfruttati specialmente da Sylph Gold appunto del Dark World. I mazzi più famosi del periodo sono ovviamente l'omonimo Tur-Tengu-Plant e l'Agent e l'Arkhold che però non terrò in considerazione per ora. Tengu-Plant è assolutamente un mazzo solido e, assieme ad Agent, sono reputati i migliori mazzi del formato. Tuttavia, Tur-Tengu-Plant nello specifico non è assolutamente il mazzo più forte del formato, ma è stata la bravura di Billy Brake che potremmo definire invece il miglior giocatore di quel periodo, tanto da vincere durante la finale del YCS Columbus con una mano iniziale di Tret-Tengu-Resuscitato, il che vi dimostra quanto sia importante la skill all'interno del formato. Posso garantirvi dunque che, almeno per quanto concerne la mia esperienza, ci sono un sacco di mazzi forti all'interno del formato che riescono tranquillamente a reggere il confronto e sono sicuro che alcuni non sono stati ancora esplorati del tutto. Per di più, ogni mazzo ha una sua variante. Per esempio, esiste per il Karakuri-Classico, il Karakuri-Machina-Plant, il Telekarakuri, ad esempio il TG-Classico, il TG-Stun o addirittura il TG-Agent. Insomma, in sovraimpressione vi metterò quelli che io reputo i 10 mazzi più famosi del formato, in base alla mia esperienza, e vi garantisco che potremmo arrivarne a contare anche più di 30-40 considerando le varianti per ognuno. Questo era tutto da questo video, ma prima di lasciarci volevo lasciarvi un piccolo messaggio. Quello che piace a voi probabilmente non piacerà a un altro. Che cosa voglio dire? Il formato perfetto non esiste e non vuoi assolutamente che il messaggio trasmesso da questo video sia che il formato 2011 sia superiore a tutti. Quel che intendo dire è che ognuno gioca a quello che vuole. Vi divertite con Edison? Giocate a quello. Vi fa schifo questo formato? Non giocatelo. O quantomeno provatelo prima di giudicare. Non serve fare discussioni su quale sia il miglior formato in assoluto. Per quelli che conoscono il canale dall'inizio, sanno che il 2011 è stato il mio periodo preferito del gioco. Mi sono affezionato anche da un punto di vista emotivo, visto che è stato in quel periodo circa che ho iniziato a giocare un po' più seriamente, ho fatto determinate conoscenze, sono appunto le emozioni e i ricordi che mi spingono ad affermare questa mia preferenza per l'appunto personale. Obiettivamente alcuni di voi avranno avuto lo stesso tipo di esperienza con Gotto, con Edison, nel passato, insomma con qualsiasi formato abbiate giocato. Abbiamo avuto tutti esperienze diverse e siamo definiti appunto da queste. Quindi giocate e divertitevi rispettando sempre il gioco e soprattutto gli altri. Io vi ringrazio come al solito di aver guardato il video fino a questo punto, se il video è stato di vostro gradimento vi ricordo di lasciare un mi piace e un commento e se i contenuti retroformat del canale dovessero interessarvi vi inviterei a iscrivervi e seguirmi sui vari social, che troverete qui sotto in descrizione assieme ad alcuni sconti e coupon che potrete utilizzare su alcuni siti. Grazie ancora e spero di esservi stati d'aiuto, quindi arrivederci e al prossimo video. See you next time! Ciao!